Bentrovati amici del Sassonello Stagno, questa settimana siamo a Clusone per parlare di uno studio della Confesercenti che rivela che per quanto riguarda il commercio gli ambulanti non se la passano male, anzi negli ultimi 4 anni ricavi del 13,4% in più rispetto al periodo precedente quindi tutto sommato nonostante la crisi sembra che gli affari per gli ambulanti vadano davvero bene ma sarà davvero così? Sentiamo direttamente loro e sentiamo cosa ne pensa anche la gente che al mercato fa acquisti che non te lo so dire se si risparmia non viene spesso? non vengo spesso, sì come mai qui oggi fare un giro? ho accompagnato la moglie se no non è uno, lascia fare la moglie è vero che si risparmia al mercato? sì, sì, io abito a Milano, vengo sempre qua a fare la spesa, che costa molto di meno rispetto a Giù davvero? sì, sì, vabbè i detersivi a un euro non li trovi ma quindi proprio fai il... sì, sì, quindi arrivi qua faccio le scorte qua da loro vado a Milano, sì, sì brava, brava eh sì, anche la frutta, la verdura, anche perché è molto rispetto a qualità-prezzo è comunque meglio ma i mercati a Milano non ci sono? sono più cari sì? sono molto più cari sì quindi la qualità buona? al mercato al mercato sì e se risparmi? puntare sicuramente nei avviamenti avviamenti perché? perché? a parte che adesso non c'è differenza anche nei negozi perché alla fine nei negozi conviene sicuramente perché i presti sono uguali poi riesci a provarti come oggi vede il tempo non riesci a provarti ma questo è un po' il problema del mercato è un po' la prova comunque è sempre le stesse il mercato il negozio non è che cambia tu acquisti molto anche al mercato? dipende dipende più che altro per farsi un giro uscire un po' ma com'è la qualità? la qualità dipende di dove acquisti e che marca acquisti si sa che vengono confezionati all'estero però non tutti credo non tutti non tutti per quello che è però sai tu che devi essere è personale secondo me ma dici che uno che compra al mercato fa un acquisto di serie B oppure bisogna anche andare fieri di dire io compro al mercato? ma dipende dipende è personale secondo me perché chi vuole non c'è da vergognarsi a comprare al mercato? assolutamente no chi piace cambiare spesso anche nel mercato va bene poi chi è più ripeto è personale se cerchi un paio di scarpe da 300 euro no vabbè quello si sa si sa le scarpe poi cavoli ci si prende un jack sai che ti dura per un to di anni si prende i cinesi naturalmente ti dura per le stagioni e poi da buttare però siccome vediamo adesso la situazione appena appena si sfiora qualche spuntile di sistemarlo puoi portarlo anche al calzolaio voglio dire almeno per me però dei cinesi non riesce perché tutto secondo me vieni tutte le settimane al mercato? no rarissime volte rarissime volte oggi sono a casa del lavoro e ne hai approfittato? ho approfittato ho detto vado a fare un giro per un bel girallo sotto la neve ma io lavoro poco non ci so di qui c'è scritto che lavoro solo per fare tassi tanti qui c'è scritto che lavoro tanto per fare tassi tanti tante tassi? sì sì ma no poche tassi per fare spesa tanti solo così sì basta ma c'è tanta gente che compra al mercato? mercato? no va bene non va bene il mercato? tanto piove nevica spesa tante capito? quindi cos'è così? solo tante tasse? sì tante tasse tante sì il mercato quelli che vendono frutta va bene noi che vendiamo ambigliamenti no no? no non comprano adesso vestiti non si rovinano subito non spendono più tanto veste così adesso quindi dici che c'è una crisi influenza molto invece dicono quello che se non c'è la crisi si tende a comprare di più il mercato no noi paghiamo troppo IVA tutta quella roba lì non si guadagna niente no quindi secondo te è una cosa falsa questa? è una falsissima questa cosa falsissima tutti si lamentano cosa scrivono sul giornale e quindi è quindi l'articolo che gli ambulanti sorridono perché fanno affari? ma che sorridono piangono e allora si fanno grandi affari leggo qui sul giornale mi lancia il mercato e gli ambulanti sorridono dipende dagli articoli secondo me perché c'è la mentalità che al mercato devi spendere poco che qua che là noi abbiamo articoli un altro giorno aspettavo un rappresentante a Ranica ho guardato un negozio aveva i miei stessi articoli un vestitino 40 euro 88 scontato 59 lo stesso vestito e lo paga anche lui quello che lo pago io perché andiamo a comprarlo nello stesso magazzino e invece tu che prezzo l'avevi? io lo vendevo a 42 mi sembra cioè mi arrivano già sono prezzi imposti quindi da 40 a 80 euro il negozio? 88 scontato 59 adesso con i saldi io da 40 adesso con i saldi dovrò farlo adesso non so dipende dalle marche in seconda facciamo ci sono sconti diversi però è un po' quello che quindi è vero che al mercato si risparmia? sì secondo me risparmi con la stessa qualità? con la stessa qualità poi devi andare a vederla la roba noi abbiamo dei marchi che teniamo noi proprio solo siamo tipo concessionari e allora lì hai un certo margine hai un certo diciamo zona dove puoi lavorare che allora riesci un po' a salvarti però io non sono tanti anni che faccio questo lavoro sto pagando tutti i miei debiti però ti dico la verità non ne metto in parte un euro non lo metto in parte quindi dici che non diventi ricco facendo l'ambulante quando avrò finito di pagare i miei debiti forse perché ne pago tanti ogni mese e allora forse qualcosa metterò in parte quindi se uno di quali cosa si lamenta di questo lavoro? non mi lamento però anche lì c'è il suo pro e il suo contro vedi anche oggi con il discorso della neve e a questo appunto dovrebbero venire incontro dovrebbero metterci una pezza i mercati al chiuso buono ce ne sono ce ne sono nei paesi del nord ce ne sono quasi tutti i mercati sono tutti o zone verso il Bresciano ce ne sono che hanno sono contenti dici? anche perché la gente già devi girare con l'ombrello e lì no dopo certo fuori devono esserci i parcheggi comunque perché io vedo il mio paese in giro non ci sono i parcheggi se ti metti un po' che vai d'accordo con l'amministrazione il visile chiude un occhio lascia parcheggiare un po' se no se non c'è la seconda multa uno basta ha finito di andare per controsenso qui a Clusone quando c'è brutto a volte essendoci i parcheggi sotto lavori quasi di più che quando però veda poi la gente adesso è un periodo morto gennaio-febbraio sempre però è un po' è una comodità oramai vogliono arrivarti come vedi fuori dai negozi vogliono arrivare con la macchina certo e qui vorrebbero arrivarti fuori davanti al banchetto praticamente ma c'è ancora l'idea che l'acquisto fatto al mercato sia un acquisto di serie B ah io l'ho comprato in negozio non vado sul banchetto anche se la merce è uguale bravo torniamo a a volte a me è brutto da dire ma la gente vai vai a prenderlo che sta bene fregata perché vieni qua qua noi dici due euro ti fanno diventare matti certo e poi vanno a spendere il doppio il negozio vai zitto paghi vai a prenderlo uguale e questo è l'esempio di prima che ti dicevo proprio la stessa ditta perché può esserci il modellino che è simile però poi le tocchi cambia la roba dopo quello che è gli alimentari ecco io quello non lo so magari lavorano con dei prezzi noi bene o male cioè i prezzi sono quelli devi stare poi come ai negozi che non so se io non riesco a capire quanto ci ricaricano sulla roba perché una regola sarebbe quella pagheranno il triplio dei tuoi debiti paghiamo anche noi qui per mettere per i posteggi cioè le spese ci sono sempre anche perché tanti dicono ma noi abbiamo gli affitti abbiamo qua abbiamo là vero però anche noi non è che vieni qui e metti anche chi viene magari che viene quel giorno che non c'è posto cioè che manca qualcuno e mette al posto di qualcun altro paga le 10, 15, 20 euro al giorno se le dividi su un mese fai il conto di quanti sono magari sono 200, 300, 400 euro al mese che uno paga per poter non è un affitto ma è più o meno c'è un'inchiesta che è stata fatta dal giornale dice che al mercato si sta bene gli ambulanti sorridono perché appunto è molto meglio stavamo dicendo proprio la signora che abbiamo preso i raviolini che deve ritornare l'artigianato il piccolo artigianato il piccolo calzolaio il mercato basta queste grandi catene che poi ti mettono la carne di cavallo ah sentite ho sentito il discorso quindi ma è qua spesso a fare questo sì viviamo qua e siamo qua a fare lunedì proprio dedichiamo vedi con questo tempo nonostante brutto tempo mercato sì si risparmia sì e no certi prodotti sì certi prodotti no su quali ci sta meglio un po' sulla frutta si sta diciamo un po' meglio sì quello si sta si sta bene anche sul formaggio sì si sta bene le altre cose mi sembra cioè è come andare nei supermercati se tu entri e ti danno e ti danno quelle offerte vabbè però se se ti muovi appena appena dall'offerta qualsiasi supermercato che vai è uguale certo e il mercato di Clusone cosa ne pensa? ma il mercato di Clusone manca qualcosa c'è tutto no no c'è tutto soddisfacente sì sì è soddisfacente il mercato di Clusone è una realtà storica di Clusone si parla di mercati e si dice che gli ambulanti sorridono hanno buoni affari vedi Tony sono appena tornato dal ferie guarda che bel colore hai visto che bel colore un pensiero positivo possiamo dire che la crisi c'è non si può negare però magari le nostre ditte sono piccole realtà serie magari con meno costi di gestione e riusciamo ad avere a portata di tutti magari un prodotto concorrenziale senza tante problematiche dietro ecco abbiamo una nostra clientela affezionata un po' in generale il mercato sta funzionando anche se la crisi è ovvio si sente un po' in tutti i settori e anche nel nostro però tutto sommato non ci possiamo lamentare anzi io vorrei chiamare a raccolto un po' di giovani disoccupati italiani che se hanno voglia di cominciare un'attività nel nostro settore tanti cinesi stanno cambiando strada cioè rivendono a noi le ditte che hanno comprato qualche anno fa infatti vedevo anche qui a Clusone che c'era una presenza di ambulanti cinesi molto importante adesso si stanno orientando sul settore alberghiero e se i ragazzi italiani hanno voglia di fare questo lavoro tutto sommato divertente sociale dinamico è il momento di provare a vedere e considerare la cosa i prezzi come sono per poter mettere un banco come il tuo proibitivi oppure tutto sommato con un piccolo mutuo in banca senza parlare di grandi cifre cioè quello che spende un giovane moderno per comprarsi la golf se sceglie di comprarsi un'attività con gli stessi soldi si compra un'attività e ha un lavoro che io e la mia famiglia facciamo da 45 anni e bene o male abbiamo sempre mangiato decorosamente non c'è mai mancato niente bene quindi tutto sommato settore una crisi un po' meno pesante non la vedo ecco così magari così rose e fiori però nel senso che stiamo sopravvivendo cioè non non ci possiamo lamentare ma la qualità perché qualcuno dice ho comprato un paio di scarpe come nel tuo caso ho comprato un giubbotto ma roba da mercato queste sono scelte commerciali che ogni operatore fa io devo accontentare due fasce di clientela un esempio scarpa italiana da 80 euro scarpa cinese da 10 ho la possibilità di servire il cliente in base alle sue possibilità certo poi quelle sono scelte mie in funzione un po' conoscendo la mia clientela dove orientarmi però si può trovare quindi non è vero che l'acquisto al mercato è un acquisto di serie B se uno vuole comprare di serie B c'è c'è la possibilità di avere prodotti come questa una scarpa cinese da 10 euro come Oscar Ponida Montagna da 200 euro cioè secondo è come ci si vuole orientare e il mercato al chiuso? perché dicono che contro gli interperi tipo quelli di oggi in tanti paesi in tante città soprattutto all'estero hanno i mercati al chiuso dove lì sei a posto oh ragazzi noi siamo ambulanti vogliamo la neve sulla tenda da oggi speriamo non mi cada la tenda un po' di spirito d'avventura se mi metti al chiuso è uguale come un negozio non mi piace più e quindi il mercato deve stare all'aperto certo con la giacca a vento ormai la nostra star del Sassano Nostagno il Paoso non manca mai quella che vediamo qui siete fortunati che non vado a farmi eleggere in qualche partito che diventerei sicuramente o presidente della Repubblica assolutamente grazie anche sono famoso oggi parliamo proprio di voi del vostro lavoro quello del commercio degli ambulanti la crisi rilancia i mercati e gli ambulanti sorridono gli ambulanti sorridono dice il giornale non tutti gli ambulanti uno studio del Confesercenti sembra che voi guadagnate 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 guadagniamo una pila di soldi non paghiamo niente no siamo fortunati abbiamo una categoria fortunata molto fortunata devo ammettere che nonostante la crisi io sono 3 o 4 anni che aumento il fatturato e purtroppo pago sempre più tasse però il ricavo è sempre quello comunque dichiaro sempre di più perché vendo sempre più la gente si accorta che venendo al mercato trova la roba da negozio a prezzi da mercato in effetti non è per farmi la pubblicità ma se voi vedete tutta quella merce che vedete qua esposta la vedete nei negozi di Mitrofi però purtroppo ci sono delle ragazze che studiano lavorano e così non hanno la possibilità di venire al mercato oppure la mamma non gliele compra per non venire a cambiare così è un po' scomodo per quello altrimenti i negozi non esisterebbero più quelli di ceto medio esisterebbero quelli che vendono roba quindi è assolutamente vero che i prezzi è verissimo è verissimo a parità a parità di articoli vi garantisco che se non la metà quasi di risparmio c'è a parità di articoli e la gente e la gente ha notato che è affezionata allora noi abbiamo un sacco di clienti che prima di andare al lavoro vengono a comprare da noi al mattino già alle 7 7 e mezza infatti lavoriamo però bisogna tenere curato bene il banchettino sempre bel pulito ordinato sempre la sua merce cioè bisogna essere anche in grado di proporre certe cose capito abbiamo la musichetta in sottofondo cioè bisogna bisogna un attimino adeguarsi capito bisogna adeguarsi un po' chi va avanti va avanti poi ci sono gli ambulanti che purtroppo vanno indietro arrivano le 8 del mattino eppure in effetti è vero lo diceva l'articolo non si vedono spazi liberi tranne quando appunto c'è questo tempaccio sì vabbè quello è normale comunque bene o male Fausto non si arrende quando mette qualcosa vende ultima cosa la proposta di mercati al chiuso come esistono in Francia e in Spagna un disastro garantiti al 100% il mio amico a Pavia sotto la certosa di Pavia c'era perché adesso non esiste più un mercato coperto un disastro assoluto una roba avevano quasi paura a scendere ultimamente così l'hanno chiuso e non esiste più i mercati sono all'aria aperta liberi bello bello come la piazza Manzucca è stata messa anche molto bene è disposta bene bella pulita ordinata sembra di essere ortisea che roba e quindi e quindi niente mercato chiuso lì è cavallino bianco niente e niente mercati chiusi mercato all'aperto d'inverno sotto la neve d'estate sotto il sole allegria il banco deve essere anche non so noi abbiamo tanti clienti amiche amiche quasi un ritrovo un banco di ritrovo deve essere una cosa in allegria grazie mille un po' più di cioè il rapporto tra noi e i nostri clienti è anche di amicizia non è un rapporto cliente come in negozio o nei supermercati così diamo anche quel vantaggio lì crisi rilancia i mercati gli ambulanti sorridono fanno soldi ci credo dice che non è vero non è vero voi da quanti anni siete nel giro del commercio nei mercati io sono adesso 10 anni 10 anni hai notato che c'è stato un po' di abbassamento troppo troppo sì la crisi è molto anche nel settore del mercato non è che si guadagna come prima quindi tutto sommato che siano negozi che siano mercati tutti tutti per quelli che chiudono adesso anche il mercato tutti i posti sono vuoti e non c'è più nessuno che li vuole mai adesso e tu tieni duro cosa fai? tieniamo duro fino a quanto possiamo dopo finché c'è un po' di energia un po' di voglia sì dopo si molla com'è la vita da ambulante? eh sì sempre il freddo si è sempre fuori poi bisogna sempre lavorare quindi è pesante pesante sì dicono che bisognerebbe creare mercati al chiuso come esistono in Francia come esistono in Spagna in tanti altri paesi ti piacerebbe un mercato al chiuso o no? non lo so bisogna provare io mai però non non è sicuro al 100% che potrebbe funzionare un mercato al chiuso bisogna non lo so magari funziona quanto piove o quanto c'è la neve quindi se c'è sole tutti all'aperto se piove tutto è più aperto è meglio ok aperto è meglio però se c'è chiuso quanto c'è la neve meglio ok bisogna provare hai letto cosa dice il giornale? che la gente ama il mercato fa acquisti al mercato perché al mercato si sta bene ci sono ottimi prezzi concordi? dipende dipende sulla frutticola credo di sì invece sui vestiti non così tanto no ho intervistato alcuni ambulanti che mi dicono che rispetto con la stessa merce rispetto ai negozi hanno sconti anche del 40-50% ma io di solito non ho mai visto questa cosa solo qualche capo ogni tanto sì però in generale ci sono vecchi negozi che comunque vendono allo stesso prezzo la qualità è un po' più alta c'è qualcuno che snova i mercati che dice il mercato è un acquisto fatto dal mercato è un acquisto di serie B no quello no quello no quello no cioè comunque sono fatti abbastanza bene quindi poi dipende sempre da come sa gestire le cose insomma come le sa mettere se parliamo di abbigliamento chiaramente il tuo giro di oggi il mio giro di oggi hai già acquistato qualcosa pensi di comprare sì con gli ultimi saldi ah con gli ultimi saldi conviene cioè un po' di più rispetto al mercato effettivamente l'ultimo questo che hai fatto al mercato oltre al frutticolo ovviamente eh alimentari no solo alimentari sì sono alimentari ma c'è da vergognarsi comprare al mercato no 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 io ho comprato un po' di pantaloni però ancora un anno fa sì 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 c'è qualcuno che non lo dice davvero? eh sì compro al mercato però dico no io negozi i negozi no no quello no no se compro qualcosa al mercato che la trovo no vale la pena di dirlo così anche gli altri possono fare gli stessi acquisti insomma quali sono i settori dove si risparmia di più al mercato ma io al mercato compro solo la frutta solo la frutta e magari come si chiama i pantaloni qualcosa di vestito su quello ha notato che c'è ci sono buoni prezzi? mi trovo bene e la qualità? eh la qualità è buona guarda qui allora tutto sommato soddisfatto sì non penso proprio siamo proprio in crisi piena secondo me hanno scritto dalle bagianate come tante volte e perché? tra l'altro non è che lo dice uno a caso lo dice il signor Giulio Zambelli che dovrebbe essere ho letto l'articolo ho letto l'articolo ma secondo me non coincide al vero almeno per quanto mi riguarda e visto ho sentito anche tanti altri ambulanti che ne parlavamo ma secondo me no allora rifiutate le le affermazioni del presidente io sì io sì secondo me non so dove sono andati a prendere i sondaggi però per quanto mi riguarda personalmente infatti noi abbiamo detto andiamo a vedere se è davvero vera questa cosa io personalmente no dopo non so gli altri come si hanno messi magari c'è anche la possibilità se ci fosse la possibilità di stare al chiuso magari potrebbe guagnare di più il mercato o sarebbe una perdita per il mercato? potrebbe essere una buona idea potrebbe essere una buona idea magari la gente anche un po' più comoda e dare un servizio in più questo non sarebbe un perché tanti paesi europei i mercati sono quasi tutti al chiuso sarebbe un discorso che si potrebbe affrontare secondo me sì invece qua a Clusone qualche ambulante dice no il mercato deve essere all'aperto una passeggiatina all'aria aperta siamo all'aperto comunque perché comunque non sarebbero strutture cioè ci sarebbero comunque delle aperture secondo me sarebbe una buona idea sia per il servizio sia per noi stessi come lavorare sarebbe meglio no non lo so guardi non ci credo non ci credo non ci credo queste cose qua no ma comunque la qualità al mercato è ottima però eh insomma abbastanza dai la qualità è insomma non proprio ottima però abbastanza dai cosa dicono i suoi clienti cosa dicono che sono contenti sì sono abbastanza contenti dai si lamentano dei suoi prezzi del banco no no dei nostri prezzi non si lamentano perché i nostri prezzi sono più che onesti capisci capisci e invece i negozi si pagano di più penso di sì non lo so però sul mercato i nostri prezzi sono molto onesti capisci non mi dica che lei non ha mai fatto nessun raffronto con un negozio non vado mai in negozio a vedere non va non va ok ok noi manteniamo i nostri prezzi qua capisci e fare un mercato al chiuso al chiuso la proposta che hanno lanciato un mercato al chiuso per combattere in una struttura chiusa tipo una fabbrica di smessa oppure fare apposta per me gira più tanta gente nel mercato aperto quante settimane saranno quelle di brutto tempo che becca in un anno saranno 5-6 in un anno in un anno sì solo e allora facciamo l'aperto meglio l'aperto sì sicuramente e finalmente la neve ci lascia in pace quindi possiamo concludere tranquillamente il nostro appuntamento dedicato questa settimana agli affari che si fanno al mercato con gli ambulanti che tutto sommato secondo questa ricerca sorridono nel mondo del commercio grazie a voi che avete seguito la trasmissione grazie a Riccardo Ravez ovviamente per le riprese e il montaggio del sesso nell'ossagno che tornerà a farvi compagnia tra sette giorni su Antena 2 TV grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori